Buonasera a tutti amici della Matrioska, bentrovati ad una nuova puntata, siamo arrivati a Poggio Rusco, un comune che ne avrà delle belle da raccontarci. Come vedete Maurizio non c'è, mi ha abbandonato, sei ammalato, io sono sulla strada giusta ma per ora cerco di resistere. Qui al mio fianco un degno sostituto, direi che fa la sua bella figura. A questo punto cominciamo, andiamo a conoscere l'assessore che ci accompagnerà per il comune di Poggio Rusco. Prima guardatevi la clip di presentazione del territorio. Il comune di Poggio Rusco dista circa 42 km dalla città di Mantua, ha una superficie di 42,35 km2 e conta 6459 abitanti. L'origine del nome risale al 1332, il documento ufficiale più antico in cui è nominato espressamente il toponimo Podium, l'odierna Poggio Rusco. Le origini assai più antiche risalgono all'epoca pre-romana ed etrusca. Il paese sorge su un'altura di 16 metri sul livello del mare, di cui l'origine del nome Poggio, che è mediamente dai 3 ai 6 metri più alta rispetto alle valli e ad altri paesi circostanti, risultando meno esposta ai pericoli di alluvioni del fiume Po. Nel 1332 il Vescovo di Mantua, secondo quanto riferito in un documento notarile, cedeva la corte del Poggio ai Gonzaga. Il palazzo comunale, già palazzo Gonzaga, costruito intorno alla metà del Quattrocento, su disegno di Luca Fancelli, appartenne alla linea dei nobili Gonzaga come corte piccola del Poggio, fino a metà dell'Ottocento, quando divenne proprietà del senatore Tullo Massarani, che nel 1904 lo vendette al comune di Poggio Rusco. In piazza San Francesco si può visitare la chiesa parrocchiale, costruita dal 1748 al 1770, è molto più ampia della preesistente struttura romanica orientata in direzione est-ovest che era circondata dal cimitero. È dedicata al Santissimo Nome di Maria, come ricorda una lapide posta al di sopra del portale, costruita in uno stile barocco leggero, su progetto dell'architetto Nicolini. Torre Falconiera, o Colombara, fungeva probabilmente da posto di avvistamento o come rifugio in condizioni di pericolo. Si ignora la data di costruzione, anche se è presumibile che risalga al 600. Faceva parte della corte grande del Poggio ed appare nello stemma del comune, restaurata di recente a spaziosi vani disposti su tre piani. Poggio rusco è famoso per il suo carnasciale podiense. La manifestazione solitamente si protrae per due domeniche consecutive a cavallo del carnevale. Organizzata dall'associazione Ducal Academia dal Pidrus, prende ispirazione dal bestiario podiense una raccolta di animali mitici e leggendari. Tali bestie sono frutto della tradizione orale contadina poggese. La raccolta comprende 21 animali fantastici. Ogni anno, durante l'ultima domenica del carnasciale, dopo lo sproloquio del brigante della Pertica, un discorso satirico pronunciato in dialetto poggese, viene scoperta la bestia, un simulacro di carta pesta che raffigura la mitica creatura secondo le descrizioni della tradizione. Assessore Fabio Zacchi, benvenuto. Assessore al turismo, alle manifestazioni. Che cosa c'è di bello qui a Poggio Rusco? Benvenuti voi a Poggio Rusco, nella nostra piccola cittadina, che però è un piccolo scrigno di tanti gioielli. Noi abbiamo una popolazione di circa 6.500-7.000 abitanti, ma una popolazione di gente che ha una tradizione secolare, che si rispecchia in tantissimi eventi e manifestazioni. Una popolazione che gli piace fare festa ed è ospitale nei confronti di tutti i nostri ospiti che vengono dalle province limitrofe. Oggi faremo un giro, una panoramica nei monumenti, nel paese, nel centro storico, ma vi faremo conoscere anche le realtà più interessanti, dall'enogastronomia alla cultura, alle nostre istituzioni e alle nostre associazioni. La prima che vi vorrei far conoscere, ed è quella più tipica di tutte, è la Ducal Accademia d'Alpidrus. Non riuscirò mai a pronunciarlo, ma forse è la più goliardica, possiamo anticiparlo. Ecco, diciamo subito questo, certo, è l'istituzione che si occupa del nostro particolare carnasciale podiense, il nostro carnevale che è tutto intreso di cultura popolare, di storie e soprattutto di bestie fantastiche. Bestie, io sono abituata a avere a che fare con le bestie, quindi sono ferrata sull'argomento. Sei abituata tu di solito. Queste sono tra l'immaginario e il reale, e hanno un custode molto particolare, il Brigante della Pertica, che vi presento con grandissimo piacere. Ah, è qui con noi, il Brigante della Pertica! Il Brigante della Ducal Accademia, ed è ovviamente in compagnia, alle sue spalle, vedete, del mitico Pidrus, che è la madre di tutte le bestie. Brigante, benvenuto! Grazie, benvenuti a voi. Qual è il suo ruolo? Io sono il custode delle bestie immaginarie del bestiario podiense. E che ruolo? Un ruolo non da tutti, eh? Sì. In più sono il fustigatore dei potenti e dei prepotenti. Sul palco, critico, amministratori come il nostro assessore, il prete e tutti quelli che lo circondano. Se ne vorrebbe uno in ogni comune, di questi briganti. Sì, sì. Io, la mia funzione era quella di togliere agli esosi e dare ai bisognosi. Come ha detto quelli della RAI, una specie di Robin Hood. Un Robin Hood, di altri tempi. Sì, sì, sì. Andiamo a conoscere anche il presidente di questa accademia dal nome, appunto, impronunciabile, dal Pidrusso. Sì, il Pidrusso è proprio questa bestia immaginaria che dà il nome al nostro carnevale, che è un po' tipico, diciamo, della zona. Il carnevale che ha mantenuto il nome antico, Carnasciano. Si ha la condizione, comunque è un carnevale fatto in un modo particolare nel nostro paese, diciamo. Viene svolto il 15 e il 22 febbraio, quindi siamo imminenti a uscire con i cari, che ci comporta un po' di impegni notevoli, diciamo, per l'allestimento. E poi dopo speriamo sempre che il tempo ci dia una mano. Certo, ci aiuti. Abbiamo parlato di bestie, a questo punto non possiamo non menzionare il bestiario Podiense. Il bestiario Podiense è un libro antico, dagli anni passati. Adesso abbiamo fatto il venticinquesimo, mi sembra, il ventiquattresimo. Stampato su una carta molto particolare. Stampato su una carta particolare. Ecco, come vedete, vedete che il bestiario raccoglie alcune delle bestie proprio della tradizione. Vedete, è stato scritto, come appunto si diceva, ormai già tanti anni fa, raccoglie alcune delle più singolari, come vedete il babau, la marmacula, tutti... È una vostra enciclopedia. Cioè, è una enciclopedia della cultura della nostra bassa Valle Padana e la particolarità del carnevale, come dicevo, è che ogni anno artisti e maestri della carta pesta realizzano una di queste bestie. In questi anni abbiamo completato questa prima raccolta. Gli autori del bestiario Podiense, Stefano Scansani, Mario Setti e Carlo Benfatti, stanno già scrivendo la seconda edizione che amplia tutta la raccolta delle bestie della tradizione popolare. Quindi la particolarità, come diceva il Presidente, è un carnevale con carri allegorici, festa come da tante altre parti, però con la bestia radicato nella nostra tradizione popolare. Quindi invitiamo veramente tutti a venirci a trovare a Poggio Rusco il 15 e il 22 febbraio. Poggio Rusco Poggio Rusco Poggio Rusco